Che hai fatto, furbetto? Stava lì, stava lì nella tenda e Jack se n'era andata. Claire poteva morire. Volevo dargliela prima, ma con la storia del ladro era un rischio. Ragazzi, che succede? Mi sono assunto la responsabilità. 40 bottiglia. Ora basta! Calvati! No, la voglio! Lasciatelo stare! Sono già sei giorni e aspettiamo ancora. Aspettiamo che qualcuno venga. Ma se non venissero? Basta aspettare. Ora dobbiamo cominciare ad affrontare la situazione. È morta una donna stamattina mentre stava nuotando. Lui ha cercato di salvarla e ora volete trocifiggerlo? Questa cosa non funziona. Se ognuno pensa a sé, qui va tutto a rotoli. È il momento di organizzarci. Dobbiamo capire come sopravvivere qui. Ho trovato l'acqua. Acqua dolce in quella valle. Ci porterò un gruppo quando sorge il sole. Se qualcuno non vuole venire, trovi un altro modo per rendersi utile. Una settimana fa eravamo estranei. Ma siamo tutti qui ora. E Dio solo sa per quanto ancora. Ma se non riusciamo a vivere insieme, moriremo da soli. Voi incontri. Grazie